in quel momento apparve la volpe buongiorno disse la volpe buongiorno rispose gentilmente il piccolo principe voltandosi ma non vede nessuno sono qui sotto al melo disse la voce che sei domandò il piccolo principe sei molto carino sono una volpe disse la volpe vieni a giocare con me le propose il piccolo principe sono così triste non posso giocare con te disse la volpe non sono addomesticata ah scusa fece il piccolo principe ma dopo un momento di riflessione soggiunse che cosa vuol dire addomesticare non sei di queste parti tu disse la volpe che cosa cerchi cerco io i uomini disse il piccolo principe ma che cosa vuol dire addomesticare gli uomini disse la volpe hanno dei fucili e cacciano è molto noioso allevano anche delle galline il loro solo interesse tu cerchi delle galline no disse il piccolo principe cerco degli amici ma che cosa vuol dire addomesticare è una cosa da molto dimenticata vuol dire creare dei legami creare dei legami certo disse la volpe tu fino ad ora per me non sai che un ragazzino uguale a centomila ragazzini e io non ho bisogno di te e neppure tu hai bisogno di me io non sono per te che una volpe uguale a centomila volpi ma se tu mi addomestichi noi avremo bisogno l'uno dell'altro tu sarai per me unico al mondo ed io sarò per te unica al mondo cominciò a capire disse il piccolo principe c'è un fiore credo che mi abbia addomesticato è possibile disse la volpe capita di tutto sulla terra ma non è sulla terra disse il piccolo principe e la volpe sembrò perplessa su un altro pianeta sì ci sono dei cacciatori su questo pianeta no questo mi interessa e delle galline no non c'è niente di perfetto sospirò la volpe ma la volpe ritornò alla sua idea la mia vita è monotona io do la caccia alle galline e gli uomini danno la caccia a me tutte le galline si assomigliano e tutti gli uomini si assomigliano ed io mi annoio perciò ma se tu mi addomestichi la mia vita sarà come illuminata conoscerò un rumore di passi che sarà diverso da tutti gli altri gli altri passi mi fanno nascondere sotto terra e il tuo invece mi farà uscire dalla tana come una musica e poi guarda vedi laggiù in fondo dei campi di grano io non mangio il pane il grano per me è inutile i campi di grano non mi ricordano nulla e questo è triste ma tu tu hai dei capelli colore dell'oro e allora sarà meraviglioso quando mi avrai addomesticato il grano che è dorato mi farà pensare a te e amerò il rumore del vento nel grano la volpe tacque e guardò a lungo il piccolo principe per favore addomesticami disse volentieri rispose il piccolo principe ma non ho molto tempo ho da scoprire degli amici e conoscere molte cose non si conoscono che le cose che si addomesticano disse la volpe gli uomini non hanno più tempo per conoscere nulla comprano dai mercanti le cose già fatte ma siccome non esistono mercanti di amici gli uomini non hanno più amici se tu vuoi un amico addomesticami che cosa bisogna fare domandò il piccolo principe bisogna essere molto pazienti rispose la volpe in principio tu ti siederai un po' lontano da me così nell'erba io ti guarderò con la coda dell'occhio e tu non dirai nulla le parole sono una fonte di malintesi ma ogni giorno tu potrai sederti un po' più vicino e il piccolo principe ritornò l'indomani sarebbe stato meglio ritornare alla stessa ora disse la volpe se tu vieni per esempio tutti i pomeriggi alle 4 dalle 3 io comincerò ad essere felice col passare dell'ora aumenterà la mia felicità e quando saranno le 4 incomincerò ad agitarmi e ad inquietarmi scoprirò il prezzo della felicità ma se tu vieni non si sa quando io non saprò mai a che ora prepararmi il cuore ci vogliono i riti che cos'è un rito chiese il piccolo principe anche questa è una cosa da tempo dimenticata disse la volpe è quello che fa un giorno diverso dagli altri giorni un'ora diversa dalle altre ore c'è un rito per esempio presso i miei cacciatori il giovedì ballano con le ragazze del villaggio e allora il giovedì è un giorno meraviglioso io mi spingo fino alla vigna se i cacciatori ballassero in un giorno qualsiasi i giorni si assomiglierebbero tutti e io non avrei mai vacanza e così il piccolo principe addomesticò la volpe e quando l'ora della partenza fu vicina disse la volpe piangerò la colpa è tua disse il piccolo principe io non ti volevo fare del male tu hai voluto che io ti addomesticassi è vero disse la volpe ma piangerai disse il piccolo principe è certo disse la volpe ma allora che ci guadagni ci guadagno disse la volpe il colore del grano e poi soggiunse vai a rivedere le tue rose capirai che la tua è unica al mondo e quando ritornerai a dirmi addio io ti regalerò un segreto e il piccolo principe se ne andò a rivedere le rose voi non siete per niente simili alla mia rosa voi non siete ancora niente disse nessuno vi ha domesticato e voi non avete domesticato nessuno voi siete come era la mia volpe non era che una volpe uguale a centomila altre ma io ne ho fatto il mio amico e ora è per me unica al mondo e le rose erano a disagio voi siete belle ma siete vuote disse ancora non si può morire per voi certamente qualunque passante penserebbe che la mia rosa vi assomigli ma lei lei sola è più importante di tutte voi perché è lei che ho messo sotto alla campana di vetro perché è lei che ho riparato col paravento perché su di lei ho ucciso i bruchi salvo i due tre per le farfalle perché è lei che ho ascoltato lamentarsi o vantarsi o anche qualche volta tacere perché è la mia rosa e ritornò da alla volpe addio disse addio disse la volpe ed ecco il mio segreto è molto semplice non si vede bene che col cuore l'essenziale è invisibile agli occhi l'essenziale è invisibile agli occhi ripete il piccolo principe per ricordarselo è il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante è il tempo che ho perduto per la mia rosa sussurrò il piccolo principe per ricordarselo gli uomini hanno dimenticato questa verità ma tu non la devi dimenticare tu diventi responsabile per sempre di quello che hai addomesticato tu sei responsabile della tua rosa io sono responsabile della mia rosa ripete il piccolo principe per ricordarselo il piccolo principe per ricordarselo il piccolo principe per ricordarselo Grazie.